ciao e bentornati sul canale bentornati sul canale halloween si avvicina e ben trovato questo è una fan dei pezzi una fan dei pezzi faccio anche questo qua di ariel che ho già svuotato e ne avevamo anche un altro come svuotato è riempito stamattina esatto l'ho riempito stamattina e anche ieri sera l'ho già svuotato e questo è pezzi speciale halloween e noi abbiamo dovuto scegliere quello con più perché scava scava in giro e allora in questo speciale pezzi halloween cosa abbiamo trovato un profumo pazzesco il contenitore ricorda bisogna caricare all'interno qui le caramelle e poi ne mettiamo legale spiegando la testa escono ma deve per forza per questo rumore le proviamo alla cola sulla streghetta e le metto al limone su ariel va bene perché quelle al limone e all'arancia sono le mie preferite infatti cioè dobbiamo assaggiare la cola per vedere se è buona ma per il resto mi è andata di fortuna perché ce n'è uno al limone e poi un sacco all'arancia quindi forse era meglio se ce n'erano un sacco al limone e uno all'arancia però va bene lo stesso cioè allora si alza si infila le caramelle sì che non è proprio così semplicissima errimo perché non abbiamo la tecnica giusta ma dovremmo cercare la tecnica giusta per caricare le caramelle sta di fatto che le caramelle vengono posizionate qua all'interno così nel momento mamma voi lo conoscete il pezzo aprite e la caramella viene spinta verso l'esterno e pezzo un pezzo questi sono pezzi fizzi un happy halloween e questo che ci sono le casse che fizzzi quanto è buona quella cola le fizzzi non so cosa sono neanche io e allora le apriamo ma vi diciamo cosa sono dei fizzzi vediamo non è che frizzano sì buonissime le avevo viste anche non esagerate mai eh però la cosa brutta è che sono rotonde quindi non si mettono nel container esatto queste sono una cosa a parte quindi giusto per fare questa piccola apertura di halloween tu stai ancora riempiendo eh ma è difficile per te che poi assaggio quelle alla cola e io mangio caramelle una l'ho già mangiata com'è il limone e i limoni sono buonissime queste sono miste hanno vari colori quindi intanto vi ricordo le mando così no no aspetta iscriviti al canale mettere un like condividere commentare ah no aspetta oh non abbiamo aperto questo l'abbiamo anche quella e non sappiamo cosa c'è io penso caramelle fizzi uguali sono come le fizzi ma nella confezione special tutto lì aspetta che assaggio un po' una allora vediamo che c'è quella caricate chiudiamo ariel pronta streghetta pronta c'era anche quello delle lol ma non so che fine abbia fatto è nel mio zaino bene anche lui vuoto assaggia e intanto vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare schiaccia la campanella per essere aggiornati su tutti i video aspetta devo assaggiare prima quella alla cola e come sempre e come sempre è particolarmente buone e come sempre e come sempre allora c'è gente che aspetta qua quella alla coca cola sono buonissime e come sempre noi vi salutiamo ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao